A Visto Sarema Chopin Il bravigliere Filippo Bologni partecipa al premio a sederia in chi pensi alla sua stallone 12 anni da quanto e da un filo di corofino cavallo con cui è andato ad ottenere le tre medaglie d'orle compiomati di tagli e di rider assoluti ed un bronzo del 2012 dall'unico avesse ad esso sempre pensi alla Chopin I want to currently are ready for Italy can the Italians make it too we wish him well Filippo Bologni this is Fixed Design Chopin the 13th to start the record datola k but d Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quattro di finalità, un peccato da Piero, l'errore per il carassiere Filippo Bologni, un errore che lo sclude dall'attrottare il barraggio di questa gara. Grazie a tutti. Grazie a tutti.